La Befana Sexy Buongiorno Grazie Il nostro fonico Perché abbiamo anche il fonico Nella nostra serie Non ci facciamo una carica E' il suo parere Se vi scappano Se vi scappano Se vi scappano E' il suo parere Per la brallo Oggi E' il suo parere Il nostro canale Chiari Azzurra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.